Abraxas, il luogo dove le giovani menti diventano gli uomini e le donne di domani. Dal 1378 il nostro Ateneo rappresenta una garanzia per il vostro futuro. Offriamo corsi di studi avanzati, equilibrati tra teoria e pratica. Siamo dotati di strutture innovative, da laboratori all'avanguardia, alle attrezzature sportive più moderne. Siamo orgogliosi di aver formato tra le menti più influenti della nostra epoca l'auror Alastor Moody, il ministro Cornelius Caramel e Newton Scamann, autore della celebre enciclopedia Animali Fantastici e Dove Trovarli. Vuoi essere il prossimo?